Cinzia mi chiede, come faccio a non avere paura della morte e a trasmettere agli altri questo coraggio? Questo potrebbe azzerare la violenza e trasformare il mondo dal personale al collettivo? O funziona sempre all'incontrario e ci dobbiamo affidare all'entropia per risolvere il problema della coscienza? Che parolone che usi Cinzia! L'entropia! Wow! Stai studiata! Come facciamo a non avere paura della morte e a trasmettere agli altri questo coraggio? Prima cosa ci devi arrivare tu, cara la mia Cinzia, partecipa alla cerimonia di The Answer, collegati con la tua anima, vieni, non so più in che lingua dirvelo, per quello che inizio a fare video in inglese, in spagnolo, magari più persone riescono a... C'era anche un po' con il franchise. Tu devi pensare agli altri, cioè prima di aiutare gli altri, devi aiutarti tu. Sull'aereo, prima di aiutare il bambino, quando l'aereo va giù, devi aiutarti tu. La maggior parte delle persone entra in questa trappola della morte, devo salvare il mondo, ma il mondo non ha bisogno di essere salvato. È tutto perfetto, se pensi che il mondo debba essere salvato, sei nella prospettiva sbagliata, pensi che l'universo abbia fatto un errore, ma non è così. Il tuo obiettivo è stare bene, quindi se tu hai paura della morte, faccia stare gli altri. Pensa a te, pensa a te. I problemi che tu vedi fuori sono dentro di te. Quindi se li reputi tali, devi risolverli dove? Negli altri. No, dentro di te, però lo so che è più facile per voi cambiare gli altri. Ma non è così, il lavoro da fare è prendere un bel biglietto per partecipare a The Answer, venire, ve lo dico sempre, tutte le volte, sono quasi stufo di dirvelo. Partecipate, vi collegate con la vostra anima e lì riceverete le vostre risposte anche a questa domanda. Questa domanda profonda. La vita, la morte, cara Cinzia. Poi ci sono persone che trovano soluzioni e persone che trovano scuse. Non ho soldi, non ho tempo. Eh, sai, devo andare in vacanza. Mi devo comprare scarpe nuove, devo cambiare il cellulare. Eh, poi allora? Non ho mica tempo di fare un viaggio alla scoperta di me. Ho altre priorità. Devi cambiare la macchina, la lavatrice, va bene. Se è più importante la lavatrice che la tua anima, va bene. Tanto la tua anima prima o poi si farà sentire, stai tranquilla. Quindi, Cinzia, la sasta, l'entropia, l'esopia, la centripeta, la centrifuga, no. Semplice, semplice, il mondo è semplice. Paura della morte. Io ti posso dire che la morte è un'illusione. Ma sono solo parole, parole, parole. Devi sperimentarlo tu. Devi vederla tu l'eternità. Con i tuoi occhi. Devi toccarla, leccarla l'eternità. Annusarla. Dire, mamma mia, che profumo che c'è l'eternità. Ciao, Cinzia.